Carissimi telespettatori di Imperia TV, l'anno sta per finire, arriva il Santo Natale e quindi era di dovere fare degli auguri speciali con la compagnia dell'uomo dell'anno e soprattutto i miei auguri veramente affettuosi e di cuore vanno alla gente che soffre, alla gente che purtroppo ha dei grossi problemi per poter sopravvivere mentre c'è gente che vive benissimo e questa è un'ingiustizia che ce la sentiamo sopra, veramente io a quelli che soffrono, agli ammalati le faccio un augurio veramente di cuore e vorrei vedere tutti felici, non vorrei vedere la gente amareggiata e noi gli auguri di Imperia TV e la compagnia li facciamo così Qual è veramente secondo voi della compagnia il nostro sommiglietto? Luigi Sibilla o Antonio De Villa? Antonio De Villa! Antonio De Villa! Allora Antonio De Villa, te Luigi Sibilla accompagnano mai l'aprile Signori, la compagnia dell'uomo dell'anno si rappresenta in questo uomo, Piero Trevia, un amico da sempre, un amico della compagnia Senza Piero non ci sarebbe dei festeggiamenti così importanti e insieme con lui vogliamo fare veramente tanti auguri a tutta la compagnia e poi decide Piero a chi vuole fare gli auguri Naturalmente a tutta la compagnia, ci tengo a precisare che questo è il trentacinquesimo anno che festeggiamo Natale in compagnia Per Natale colgo l'occasione di salutare tutti gli amici, un buon Natale a tutti i tuoi telespettatori, a tutta la gente bisognosa E un buon Natale a tutti Buon Natale e buon anno per tutti dalle coline di Diano Marina Vogliamo salutare anche tutti gli amici di Diano Marina Soprattutto gli amici che io ho fatto tante serate Umberto, Mario, Gianluigi, Gino Li voglio salutare da questa località con tanto affetto Siete sempre nel nostro cuore Magari con Piero poi organizzeremo qualcosa di importante Per poter vederli una sera a tutti Signori, io e Piero vi diciamo un grazie a tutti e a tutta la compagnia